Un progetto che vede coinvolti scuola, comune e associazioni del terzo settore. Gli studenti dei licei Taramelli e Foscolo di Pavia stanno organizzando una raccolta fondi per trasformare il parco giochi Rossignoli in un parco inclusivo, cioè utilizzabile anche dai bambini con disabilità. I ragazzi sono impegnati in uno stage di alternanza scuola-lavoro, realizzato con la collaborazione del Chivanis Club Pavia Visconteo, durante il quale verranno formati nella preparazione di strategie di comunicazione finalizzate al fundraising, in particolare attraverso internet. Lo stage ha come finalità quello di illustrare ai ragazzi questo progetto che è del nostro club e che riguarda la realizzazione del parco giochi Rossignoli e renderlo come parco giochi inclusivo, per cui dovrà essere utilizzato da tutti i ragazzi, tutti i bambini, nessuno escluso, compresi i bambini con disabilità motoria e sensoriale. I ragazzi sono straordinariamente interessati alla realizzazione di questo progetto e si sono attivati nella raccolta fondi finalizzata all'acquisto dei parchi giochi inclusivi da posizionare in questo campo giochi. Oggi inizia ufficialmente la fase operativa di raccolta fondi. L'obiettivo è raccogliere i 18.000 euro che occorrono per il completamento del parco, che ha già una pedana e un'altalena accessibili dai disabili motori. Un progetto focalizzato sull'inclusività che l'amministrazione comunale ha voluto appoggiare con determinazione. Ringrazio naturalmente la preside Fossati e ringrazio la scuola Taramelli Foscolo perché si distingue per l'ennesima volta nell'ambito cittadino per la grandissima sensibilità e collaborazione. I progetti che stiamo facendo insieme a queste due scuole sono progetti importanti. Questo è un altro progetto fondamentale. Quindi io ringrazio i ragazzi di tutto quello che stanno facendo. Avete degli ottimi insegnanti, avete un'ottima preside e devo dire che vi siete distinti come miglior istituto sia per quanto riguarda il Foscolo sia per quanto riguarda il Taramelli a livello lombardo e secondo a livello nazionale. Devo dire questa cosa, quando ci siamo insediati era giugno noi a fine anno abbiamo incontrato il signor Albanesi che è venuto a presentarci questo progetto. Poi a causa Covid abbiamo dovuto rimandare ma oggi siamo qua e quindi sono molto contento perché nonostante tutto, nonostante la pandemia siamo riusciti a portare avanti questa bella iniziativa. Stiamo lavorando anche su altri parchi seguendo questo esempio per rendere i parchi sempre più fruibili da tutti parchi sicuri, parchi belli. Quindi che dire, grazie a tutti del lavoro e ci vediamo al prossimo parco magari.